Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di oggi. Oggi concludiamo la nostra sezione legata alla ritmologia parlando della fibrillazione atriale. Fibrillazione atriale che è verosimilmente l'aritmia che vedrete più spesso nella vostra pratica professionale e che ha bisogno sicuramente di una lezione a parte perché è una patologia estremamente importante, complessa e se vogliamo anche molto affascinante. Come sempre partiamo con le definizioni, quindi cosa intendiamo per fibrillazione atriale? La fibrillazione atriale è un'aritmia, non si incastra molto bene nella precedente classificazione che abbiamo fatto delle bradicardie, delle tachicardie, perché in realtà la fibrillazione atriale si comporta sia in senso bradiaritmico che in senso tachiaritmico anche nello stesso paziente. Le caratteristiche della fibrillazione atriale sono sostanzialmente quelle di un'attività atriale molto rapida, quindi l'atrio ha tutti gli effetti, ha una frequenza elettrica molto alta, andiamo tra i 750 e i 600 battiti al minuto, quindi ben oltre le frequenze per esempio del flattero della tachicardia atriale. L'attività atriale è irregolare, non c'è un focus specifico che dà il battito, che funge da pacemaker, ma l'attività atriale è completamente sovvertita. Da una quantità di fronti d'onda che cambiano in realtà da secondo a secondo, la risultante è una sostanziale perdita di contrazione meccanica, da un punto di vista pratico l'atrio è fermo, non c'è una sistole atriale. E questo rende conto anche del fatto che non c'è, diciamo, la caratteristica classica dell'elettrocardiogramma, ma manca l'onda P, poi vedremo che l'onda P in realtà è sostituita da tutta una serie di alterazioni LCC, che però fanno fatica a essere viste come un'attività atriale organizzata. La perdita della sistole atriale fa anche sì che viene ridotta il riempimento ventricolare. Se vi ricordate, la sistole atriale è anticipata rispetto alla sistole ventricolare proprio per favorire nella fase finale il riempimento del ventricolo. La frequenza dipende dal nodo AV, cioè dipende da quanti impulsi atriali arrivano al nodo AV e vengono condotti. Quindi per questo vi dicevo che non può essere considerata né solo una bradiaritmia né solo una tachiaritmia, perché il paziente con fibrillazione atriale vi si può presentare con un ritmo irregolare e rapido e con una frequenza di QRS che può arrivare anche a 180-190 battiti al minuto, quindi il paziente tachicardico. Allo stesso modo, lo stesso paziente in un altro contesto vi si può presentare sempre con una ritmia irregolare, ma con una frequenza di QRS e quindi delle sistoli bradicardiche, anche sotto 50, sotto 40, ci sono anche le fibrillazioni atriali bloccate che possono essere una delle cause di sincopi, se vi ricordate la lezione sulle sincopi. Quindi il paziente con fibrillazione atriale può avere una frequenza media ventricolare che può essere normale, può essere alta, può essere bassa, a seconda di quello che passa a livello del nodo intriulitricolare. Perché parliamo di fibrillazione atriale a parte? Perché vi dicevo che è così importante? Perché la fibrillazione atriale è estremamente frequente. Si pensa che circa il 2% di tutta la popolazione mondiale, tutti, considerate anche i bambini e i giovani, abbia una fibrillazione atriale. Questo perché l'incidenza è molto alta, soprattutto nel soggetto anziano, è una patologia età correlata e ovviamente aumentando l'età media della popolazione negli stati, diciamo, più sviluppati, aumenta anche la prevalenza della fibrillazione atriale. Si stima, per quanto riguarda gli Stati Uniti, che ormai ci siano circa 8 milioni di persone affette da fibrillazione atriale. In Europa siamo anche sopra, siamo sopra i 10 milioni sicuramente. Quindi è una patologia estremamente comune, una patologia che, ripeto, vedrete sempre più spesso, è una patologia che dà una serie di complicanze importanti a lungo termine. In questo caso, diciamo, in maniera abbastanza strana, se vedete, sono le donne, soprattutto delle fasce d'età più alte, quelle ad avere la maggior prevalenza di fibrillazione atriale. Sono dati non recentissimi, ma sono sostanzialmente confermati anche nel decennio attuale. Da cosa è dovuta la fibrillazione atriale? Perché un paziente inizia a sviluppare fibrillazione atriale? La fisiopatologia della fibrillazione atriale è estremamente complessa. Non è ancora ben compreso perché un paziente smetta, piano piano, di avere un ritmo sinusale e viri verso la fibrillazione atriale. È vero che il processo che porta alla fibrillazione atriale è un processo lento, è un processo cronico, è un processo che richiede anni e ci sono tutta una serie di fattori di rischio che favoriscono questo tipo di processo. I più importanti sono i fattori di rischio cardiovascolare classico, come l'ipertensione arteriosa, cardiopatia coronarica, il diabete, tutte quelle cose che possono portare ad un'alterazione di forma e dell'atrio, come può essere una patologia, per esempio, valvolare o uno scompenso cardiaco. Il sesso femminile, abbiamo detto, è predisponente, l'età avanzata è predisponente, tutta una serie di condizioni infiammatorie croniche sono predisponenti, vedremo che la fibrillazione atriale è una patologia infiammatoria sistemica e soprattutto questo spiega perché la fibrillazione atriale è così strettamente legata a un rischio tromboembolico. Ci sono anche fattori, diciamo, di studio più recente, un esempio classico, le apneostruttive del sonno, che sono considerate estremamente importanti, non frequentissime ovviamente, ma che possono spiegare l'insorgenza di fibrillazione atriale, per esempio, nel soggetto giovane, nel soggetto senza patologie cardiache, conclamate senza fattori di rischio. Un'altra cosa importante è che la fibrillazione genera fibrillazione. Cosa vuol dire questo concetto? Vuol dire che la perdita di funzione sistolica dovuta alla presenza della fibrillazione, parliamo sempre di sistole atriale, contribuisce al mantenimento della fibrillazione, cioè si crea, mano a mano, che il paziente va avanti nel suo processo patologico, un rimodellamento dell'atrio, che è sia elettrico che strutturale, rimodellamento strutturale è più facile da capire, di solito l'atrio, soprattutto l'atrio sinistro, aumenta di volume, aumentando di volume aumenta lo stress di parete, e questo rende conto di una serie di rimodellamenti che portano ad una fibrosi atriale, cioè piano piano le cellule neocardiche vengono in parte sostituite da tessuto connettivo. Il tessuto connettivo, come sapete, non conduce all'impulso elettrico, è responsabile della presenza di blocchi in entrata, di frammentazioni di potenziale, che può favorire l'insorgenza di fibrillazione atriale. E tutto questo spiega anche il rimodellamento elettrico, cioè l'atrio dilatandosi, rimodellandosi in senso fibrotico, non è più una struttura omogenea, ma si troverà a livello elettrico ad avere delle zone di più o meno facilitato passaggio, quindi tutto questo porta ovviamente alla disorganizzazione anche dell'impulso elettrico. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che mantenere un paziente in fibrillazione atriale vuol dire, dopo un po', tenerlo in fibrillazione atriale per il resto della sua vita. In questo caso si parla di fibrillazione atriale permanente ed è di solito legata all'assenza di opzioni terapeutiche, vedremo dopo quando parleremo di controllo del ritmo, l'assenza di opzioni terapeutiche che possono riportare il ritmo sinusale. di questo paziente. Classificazione della fibrillazione atriale è estremamente importante. Queste sono le linee guida del 2010, quindi neanche le ultime che sono del 2020 o le precedenti che erano del 2016, quelle prima ancora, che introducono però una serie di concetti fondamentali che vi spiegano proprio come questa classificazione della fibrillazione atriale abbia un'evoluzione temporale. Il primo episodio di fibrillazione atriale prende il nome di prima diagnosi, quindi il paziente senza storia di fibrillazione atriale si fa la diagnosi. Quella è una prima diagnosi. Indipendentemente dai sintomi e dalla durata, è il momento in cui bisogna iniziare a impostare una strategia, sia per quanto riguarda l'aspetto aritmico, sia per quanto riguarda l'aspetto tromboembolico. Questa prima diagnosi può essere una fibrillazione atriale parossistica, per esempio, o una fibrillazione atriale persistente. Molto di rado la prima diagnosi è una fibrillazione atriale permanente. Qual è la differenza? La differenza è fondamentale. La fibrillazione atriale parossistica è la fibrillazione atriale che termina spontaneamente, quindi il paziente dal ritmo sinusale va in fibrillazione atriale, avrà, verosimilmente, ma non è sempre detto, ma molto probabilmente sulla parossistica avrà dei sintomi. Quindi la fibrillazione regredisce da sola al ritmo spontaneo, riparte autonomamente. Questa cosa deve avvenire entro sette giorni. Di solito le fibrillazioni atriale parossistiche non durano più di un paio di giorni. Per essere parossistica, ripeto, deve regredire spontaneamente. Cosa vuol dire? Senza l'intervento nostro, ok? Nel momento in cui l'episodio di fibrillazione atriale parte, ma per essere risolto ha bisogno di un intervento clinico, e vedremo dopo quali sono le opzioni terapeutiche, allora parliamo di fibrillazione atriale persistente, ok? In questo caso si pensa che il processo sia già leggermente più avanzato, cioè la fibrillazione atriale non è in grado di rientrare autonomamente, ma risponde alla terapia medica. Di solito in questi casi si parla di cardioversione elettrica o farmacologica. Vediamo dopo nello specifico cosa intendiamo. La persistente a lungo termine è una nicchia di FA che perdura da molto tempo, da più di un anno. la permanente è la fibrillazione atriale che una volta viene definita fibrillazione atriale cronica, cioè la fibrillazione atriale in cui non si riesce a ripristinare il ritmo sinusale oppure semplicemente dal punto di vista clinico non viene considerato utile ripristinare il ritmo sinusale per una serie di motivi che vediamo dopo quindi in questo caso si dice anche che la fibrillazione atriale viene accettata e il paziente sta in fibrillazione atriale per tutta la sua giornata. Di solito se non interveniamo il percorso temporale è parossistica persistente e permanente. Cosa devo fare per quanto riguarda la valutazione clinica del nostro paziente con fibrillazione atriale? Allora è importante abbiamo detto oltre al discorso della severità valutare anche i rischi associati perché la fibrillazione atriale si associa ad un alto rischio di complicanze anche importanti prima di tutti la malattia trombombolica e quindi lo stroke l'ictus cerebri per citarne una e lo scompenso cardiaco quindi durante la valutazione clinica vedete quello che viene consigliato dalle linee guida per le linee guida attuali è la valutazione delle 4S cosa sono le 4S la prima S è il rischio di stroke cioè il paziente che ho davanti ha un rischio basso medio o alto di stroke questa cosa si valuta con uno score che è uno score estremamente utilizzato in pratica clinica molto conosciuta anche forse fuori dall'ambiente cardiologico che è il chasvasque che vediamo dopo nel dettaglio cos'è ma che mi stima il rischio di stroke del mio paziente ok e questo va fatto in ogni paziente con una diagnosi di FA perché vedremo che in base al punteggio del chasvasque c'è o meno l'indicazione a fare l'anticoagulante seconda S la severità dei sintomi la mia fibrillazione atriale può essere minimamente sintomatica può dare un cardiopalmo può dare una lieve tolleranza allo sforzo può anche non essere assolutamente sintomatica qui intendiamo comunque una fibrillazione atriale clinica quindi una fibrillazione atriale che abbia in qualche modo spinto il paziente a farsi a farsi vedere i sintomi possono essere minimi possono anche essere severamente invalidanti la seconda grossa complicanza della fibrillazione atriale è lo scompenso cardiaco e scompenso cardiaco in pazienti con fibrillazione atriale può anche essere estremamente importante in questo caso si valuta la tolleranza allo sforzo con una classe che è la classe era che altro non è che la classe mia per lo scompenso rimodellata sui sintomi per l'FA e con i questionari per la quality di vita qual vuol dire quality of life terza S la severità del burden di fibrillazione atriale quello si intende con burden si intende quanto ritmo sinusale è in qualche modo sovvertito dalla fibrillazione un paziente con fibrillazione atriale parossistica avrà brevi tratti di FA su una base di ritmo sinusale e quindi un burden quindi periodo intendo per burden periodo totale in fibrillazione atriale basso un paziente con un FA permanente avrà un burden di FA del 100% cioè tutto il suo tempo è in fibrillazione atriale il burden serve anche per valutare a che punto siamo arrivati da un punto di vista temporale un burden alto di fibrillazione atriale è indicativo di un rimodellamento elettrico strutturale dell'atrio già abbastanza avanzato e questo ci porta alla quarta S cioè alla severità del substrato cioè come è messo il cuore l'atrio nello specifico con rimodellamento elettrico strutturale ma come è messo anche il sistema cardiovascolare con la valutazione dei fattori di rischio di eventuali cardiopatie associate nel mio paziente in fibrillazione questo ovviamente si fa quasi completamente con l'imaging l'ecocardiogramma anche qua ha un aspetto di primo piano e con la valutazione lavoratoristica abbiamo detto i sintomi i sintomi della fibrillazione natriale sono molto eterogenei mi raccomando e questa è una cosa che spesso il paziente non sa ma che va a spiegare non è detto che il paziente percepisca tutti gli episodi di FA non è detto che li percepisca neanche uno ma questo è ben spiegabile perché di solito la clinica è dipendente dalla frequenza di risposta ventricolare episodi che mandano il ventricolo a frequenze tutto sommato normali diciamo 80 100 massimi battiti al minuto possono non essere percepiti più ci spostiamo sugli estremi cioè verso le alte frequenze o le basse frequenze di risposta e più è facile che abbiamo sintomi ok un'altra cosa su cui si varia la anche l'intensità dei sintomi è l'irregolarità della risposta ventricolare cioè alcuni pazienti percepiscono lo stacco quindi quando la fibrillazione parossistica precede il ritmo sinusale riprende il sopravvento in questo periodo ci può essere diciamo una fase di qualche secondo in cui il nodo senatriale è ancora stordito dalla fibrillazione non riparte subito e il paziente percepisce il sintomo allo sblocco si dice cioè alla risoluzione automatica della fibrillazione atriale più la fibrillazione atriale diventa permanente quindi più aumenta il burden e più è facile avvertire i sintomi il paziente anziano con FA permanente di solito non avverte assolutamente che ha un FA in corso paziente giovane con un FA parossistica è molto facile che invece si venga alla nostra attenzione perché percepisce sintomi che possono anche essere invalidanti ok questo è importante però dirlo al paziente perché il paziente è convinto che lui possa avere in ogni caso come se vogliamo dire il campanello d'allarme degli episodi quindi lui dice io non ho più sintomi non ho più episodi in realtà non è così gli episodi anche possono essere asintomatici quali sono questi sintomi li abbiamo già accennati classicamente il cardiopalmo la sensazione di palpitazioni irregolari che di solito non è come l'extrasistolia quindi sporadica ma che dura per diversi minuti pazienti più scaffati percepiscono un polso periferico irregolare e ve lo segnalano e i sintomi legati alla ridotta agitata cardiaca alla perdita dell'assistolia triale che sono i sintomi dello scompenso quindi dispnea astenia ridotta tolleranza all'esercizio affaticabilità in alcuni casi molto rari possiamo avere l'angina o la sincope di solito in questi casi c'è ripeto o un'estrema bradicardia oppure la presenza di patologia concomitante tra i segni e i sintomi della fibrillazione atriale il primo può essere anche purtroppo la complicanza nello specifico lo stroke pazienti che ho stroke ischemico devono essere studiati devono essere monitorizzati per vedere se hanno una fibrillazione atriale perché in alcuni casi prima ho lo stroke e poi andando a fare l'oltero monitorizzare il paziente con la telemetria mi accorgo che il paziente aveva una fibrillazione atriale importantissimo anche qui per la gestione della terapia anticoagulante e questa è la diagnosi la diagnosi e la fibrillazione atriale si fa con l'elettrocardiogramma quali sono le caratteristiche standard prima caratteristica fondamentale non c'è un'onda P non riesco a vedere un'onda P che non vuol dire per forza che la miosa elettrica sia completamente piatta posso avere anche come vedete in questo caso un'iso elettrica tutta frastagliata sinonimo di un'attività elettrica disorganizzata atriale ok secondo concetto fondamentale per far diagnosi devo avere i QRS vedete gli intervalli tra un QRS e l'altro devono essere irregolari tra loro è un'aritmia che viene definita irregolarmente irregolare cioè non è regolare ma non riesco neanche a trovare se vogliamo una ripetibilità nelle irregolarità tutti i QRS sono più o meno a caso a frequenza variabile ripeto a seconda di quello che passa a livello del nodo e questo è un esempio sulle 12 derivazioni di un paziente con fibrillazione atriale cosa vediamo in questo caso non abbiamo un'onda P in alcuni casi si può vedere soprattutto in V1 un'attività atriale questa potrebbe sembrare un'onda P vedete molto disorganizzata assolutamente non concorde con i QRS per la conferma dell'onda P ricordo non basta mai una derivazione bisogna vedere anche le altre se ci fate caso qui di onde P discernibili non se ne vedono V1 è la migliore per l'attività elettrica atriale semplicemente perché è la più vicina anche all'atrio di destra le P non ci sono i QRS sono irregolarmente irregolari vedete che ogni QRS ogni intervallo RR è diverso dall'altro ok questo paziente una fibrillazione atriale ad alta risposta per fare la dare una stima della frequenza ovviamente qui l'elettrocardiografo automatico vi frega perché vi prende solo l'RR tra i primi due complessi che vedete in questo caso siamo attorno a 110 bisogna fare una media perché qua è 110 qua è verso 150 qui anche di più perché vedete meno di due quadratini e via dicendo quindi la stima della frequenza è occhiometrica non si parla in questo caso di frequenza cardiaca si parla di frequenza ventricolare media ok questa è mediamente sopra i 100 battiti al minuto è una fibrillazione atriale che sta dando in questo specifico momento ma non è detto che sia sempre così una tachiaritmia c'è anche io lo accenno solamente però è un frutto attuale di grossa discussione una fibrillazione atriale subclinica cioè una fibrillazione atriale che non si manifesta con dei sintomi e che noi andiamo a diagnosticare praticamente casualmente incidentalmente perché il paziente ha per esempio come in questo caso un pacemaker o un loop recorder abbiamo visto il loop recorder quando abbiamo fatto la lezione della sincope e questi dispositivi agiscono anche come alter quindi sono in grado di registrare gli eventi e in questo caso i pazienti assolutamente asintomatici hanno il riscontro di una fibrillazione atriale data dal dispositivo questo tipo di fibrillazione atriale si chiama fibrillazione atriale subclinica è ancora discusso se abbia lo stesso significato della fibrillazione atriale clinica questo lo dico perché vedremo sempre più spesso soprattutto adesso che abbiamo l'esplosione di dispositivi e i cosiddetti dispositivi indossabili che sono in grado di fare diagnosi di fibrillazione anche diciamo ad uso non medico ad uso commerciale del privato parlo dell'Apple Watch del Samsung Watch e di tutti gli altri dispositivi abbiamo una serie di pazienti che hanno un aumento del numero di detezioni di questi episodi in assenza completa di sintomi non va attualmente ancora considerata come una fibrillazione atriale clinica cioè una fibrillazione atriale che io vedo alle cg 12 derivazioni ma ci stiamo lavorando nel senso che non è ancora chiaro se questa fibrillazione atriale subclinica rappresenti un iniziale campanello di allarme e quindi necessiti di una terapia preventiva oppure sia un riscontro occasionale questo lo dico perché di solito poi il paziente si allarma e chiede un riscontro al sanitario per il momento sono due cose diverse quindi il paziente che arriva con l'Apple Watch che gli segnala un FA in assenza di sintomi l'unica cosa da consigliargli è fare un elettrocardiogramma vero e proprio a 12 derivazioni perché poi c'è anche un problema di accuratezza che non è proprio brillantissima oppure un alter per confermare la diagnosi di fibrillazione le complicanze della fibrillazione le abbiamo dette mi raccomando ve le ricordo principali sono due stroke patologia tromboembolica di solito stroke ma può dare anche embolia sistemica perché nella stragrande maggior parte dei casi gli emboli di derivazione cardiaca si formano nel latio di sinistra si formano in auricola sinistra e quindi l'embolia che ho è via aorta e quindi ictus cerebrale ma anche embolia periferica seconda grossa complicanza lo scomperso cardiaco che va a braccetto classicamente nelle fasi finali della fibrillazione iniziamo con uno dei due pilastri fondamentali della terapia della fibrillazione che è la terapia antiritmica in questo caso cioè quando io vedo un paziente in teoria la prima diagnosi è il momento buono per fare questo tipo di ragionamenti farlo in terapia antiritmica ho due grosse opzioni due grosse strategie ok che non è detto che siano mutualmente esclusive nella storia di un paziente si può anche provare a tentare prima con una strada e poi con l'altra queste grosse due strategie sono la strategia di controllo del ritmo cosiddetto ridurre controllo qual è lo scopo di questa strategia ripristinare e mantenere il ritmo sinusale ok quindi paziente che io decido di mettere in rhythm control è un paziente in cui io spendo attivamente energia per cercare di ripristinare e mantenere il ritmo sinusale non solo ripristinare ma anche di mantenere il paziente il ritmo sinusale quindi io punto a ridurre o abolire il burden di fibrillazione atriale cioè il tempo speso dal paziente di fibrillazione atriale la seconda strategia è una strategia di controllo della frequenza non del ritmo della frequenza si chiama rate control cosa vuol dire lascio perdere mollo la palla su quello che riguarda il ritmo sinusale non mi interessa più se il paziente è in ritmo sinusale o in fibrilla sinetriale il mio obiettivo è mantenere una frequenza cardiaca adeguata quindi di solito questa è la strategia nei pazienti che non riescono a mantenere il ritmo sinusale che hanno una risposta ventricolare alta che io cerco di riportare alla norma attraverso una serie di farmaci che di solito lavorano rallentando la conduzione a livello del nodo avu ok se il paziente è bradicardico ovviamente non avrò bisogno di questo tipo di farmaci iniziamo parlando di controllo del ritmo per controllare il ritmo abbiamo detto nelle fibrillazioni atriali persistenti è necessario che ci sia l'intervento medico che ripristina il ritmo sinusale e fa passare la fibrillazione atriale questo avviene tramite una procedura che si chiama cardioversione che può essere o elettrica o farmacologica la cardioversione elettrica come si fa? si fa con una appunto cardioversione programmata quindi il paziente viene sedato viene erogata uno shock mi raccomando nella cardioversione lo shock è sincrono con il QRS quindi il mio defibrillatore manuale deve essere sincronizzato sul QRS del paziente per parlare di cardioversione se io do uno shock e non sono sincronizzato non è una cardioversione è una defibrillazione in questo caso indicata la cardioversione questa procedura ovviamente deve essere fatta con il paziente in sedazione perché ovviamente pigliarsi uno shock dal defibrillatore sul bifasico sono 200 J non è sicuramente una cosa che fa piacere quindi prima opzione che abbiamo per la cardioversione è la cardioversione elettrica si può fare anche senza supporto tradizionalmente si faceva con il supporto anestesiologico si può fare anche senza supporto anestesiologico utilizzando alcuni farmaci più gestibili del classico prof come per esempio le benzodiazepine short-acting come per esempio il midazolam anche solo dal cardiologo o in alcuni stati come il Regno Unito ci sono addirittura delle cliniche in dei ospitali in cui le procedure di cardioversione sono gestite su protocolli specifici ovviamente ma esclusivamente da personale infermieristico ok il protocollo è monitoraggio induzione di una sedazione che non deve essere un'anestesia generale è una sedazione profonda quindi si toglie la parte nocicettiva ma il paziente ha respiro spontaneo shock sincronizzato cardioversione e ripristino della coscienza tutto questo molto spesso è più lungo la preparazione che l'effettiva cardioversione i tempi standard di induzione shock e ripristino della coscienza dopo che uno impara a farle non vanno oltre i 5-10 minuti alternativa alla cardioversione elettrica la cardioversione farmacologica in questo caso cosa si fa si utilizza un antiarritmico di solito endovena quindi è assolutamente meno cruenta della cardioversione elettrica perché basta un accesso venoso periferico e il paziente si fa la sua infusione è ovvio che sono diversi anche i tempi di risposta cioè la cardioversione elettrica mi permette un ripristino del ritmo sinusale all'istante nel momento in cui efficaci e quindi è ovvio come scritto qua che nei pazienti con instabilità emodinamica nei pazienti compromessi con dei parametri che non ci piacciono io non ho il tempo di mettergli su l'endovena ed aspettare che l'antiarritmico impieghi ore per agire lavoro con la cardioversione elettrica ok quindi se un paziente con il RIVA in FA per esempio si ha l'emergenza ed è instabile si lavora con la cardioversione elettrica di emergenza se il paziente è stabile ci possiamo prendere tempo ok in questo caso oltre a scegliere tra cardioversione elettrica e cardioversione farmacologica c'è anche importante da gestire il discorso dell'anticoagulazione mi spiego meglio se io ho un paziente con una fibrillazione atriale e sono abbastanza sicuro che la fibrillazione atriale sia insorta nell'arco delle 48 ore precedenti cioè qui quindi è di recente insorgenza sono a questo livello qua dell'algoritmo allora posso procedere direttamente alla cardioversione e decido se fare la cardioversione farmacologico elettrica perché la fibrillazione atriale è insorta da poco non ha probabilisticamente probabilisticamente il mio paziente ancora ha avuto modo di sviluppare un trombo in auricola sinistra ok è un discorso di probabilità e quindi posso fare la mia cardioversione se il mio paziente invece mi arriva con una fibrillazione atriale che ha avuto da più di 48 ore oppure che non so quando è partita perché magari lui non aveva grossi sintomi e quindi l'abbiamo scoperta all'elettrocardiogramma per tutt'altro motivo allora prima della cardioversione è indicato fare un'esclusione della eventuale presenza di trombi in auricola perché in questo caso l'aritmia essendoci da più tempo può aver dato la formazione di un trombo in auricola sinistra se io lo cardioverto gli do la scossa gli ripristino la sistole atriale il trombo che è in auricola sinistra con la sistole atriale io lo embolizzo ed è vero che tratto la fibrillazione atriale del mio paziente sono molto bravo ma gli faccio avere uno stroke probabilmente il beneficio non è proprio il massimo quindi in questo caso lo spartiacque sono le 48 ore oltre le 48 ore o se non sono sicuro di quella che è la databilità della fibrillazione atriale è indicato fare un ecocardiogramma transesofasio tutto questo ovviamente non si pone se il paziente è già squagulato se il paziente sa già di avere una fibrillazione atriale fa già un anticoagulante vediamo dopo quali sono e siamo sicuri che lo stia facendo allora sono tranquillo che il trombo non ha modo di formarsi abbiamo detto cardioversione elettrica contro farmacologica cosa si preferisce dipende sia da diciamo quella che è l'idea del paziente sono dei pazienti che non sono particolarmente contenti di farsi sedare e prendere una scorsa però c'è da vedere anche quella che è l'efficacia a parte nell'instabilità emodinamica in cui abbiamo detto si va per risparmiare tempo sulla cardioversione elettrica e a parte i casi in cui il paziente fa già antiarritmico per esempio e nel qual caso fare un'infusione dello stesso antiarritmico non ha molto senso negli altri casi vedete si lavora con entrambe le opzioni di solito la cardioversione farmacologica è più efficace nel paziente con FA di breve insorgenza insorta da poco è molto meno efficace nell'FA insorta da più di una settimana o nell'FA dei pazienti che già hanno fatto antiarritmico hanno avuto precedenti tentativi di cardioversione farmacologica questi sono i dosaggi per le cardioversioni farmacologiche ovvio non mi interessa che li sappiate vi può servire in pratica clinica considerate che solitamente c'è un bolo e c'è una dose di mantenimento in alcuni casi vedete le cainide e il propafenone quindi gli 1C qui in realtà era presente una dose di mantenimento poi nelle ultime linee guida è stato tolto il problema del controllo del ritmo è non solo abbiamo detto ripristinare il ritmo sinusale ma anche mantenere il paziente al ritmo sinusale perché la cardioversione fa il suo lavoro ma lo fa per un breve periodo di tempo cioè se io prendo un paziente gli faccio una cardioversione elettrica gli ripristino il ritmo e lo mando a casa così il mio paziente ha lo stesso rischio di ritornare in FA che aveva prima io gli ho risolto il problema diciamo al momento ma lui torna a casa e mi rientrerà dopo poco tempo con lo stesso identico problema la ventilazione atriale non è curata dalla cardioversione ok in questo caso si lavora con una profilassia antiarritmica cioè il mio paziente che esce in ritmo sinusale va a casa e va a casa con un antiarritmico che può essere un antiarritmico di classe 1C come la flecainide o il propafenone classicamente e questi si fanno soprattutto nei pazienti senza cardiopatia strutturale può essere il classico amiodarone che viene dato a fiumi a litrate nei nostri pronti soccorsi ma che in realtà ha dei problemi di gestione soprattutto del lungo periodo alternativa farmacologica oppure seconda linea nel momento in cui questi farmaci fatti in cronico quindi per bocca sono tutti farmaci che antiarritmici che vengono dati per bocca se questi farmaci falliscono nel mantenere il paziente in ritmo sinusale si può lavorare anche vedete qua anche qui c'è sempre la scelta del paziente si può lavorare anche con l'ablazione trascatetere che cos'è l'ablazione trascatetere è una procedura invasiva attraverso la quale si punta al controllo del ritmo cioè attraverso il sistema venoso si arriva in atrio destro si punge il setto interatriale ok attraverso un sistema dedicato che permette la puntura si chiama transettale e si lavora in maniera in realtà molto più complessa ma qui è molto semplificato giusto per farvi capire andando ad ablare cioè isolando le zone responsabili della fibrillazione atriale isolando elettricamente classicamente le vene polmonari ok questo isolamento delle vene polmonari può essere fatto tramite un elettrocattetere che eroga radiofrequenza quindi a tutti gli effetti delle bruciature vedete come sia possibile anche con sistemi molto complessi e molto avanzati procedere all'isolamento elettrico delle vene polmonari che soprattutto nel paziente giovane con la parossistica responsabile dell'innesco dell'FA oppure un altro sistema un po' meno utilizzato in pratica clinica ma comunque efficace è il pallone la crioblazione in questo caso si inserisce il catetere sull'osteo della vena polmonare si gonfia il pallone il pallone è a temperatura molto bassa e quindi in questo caso l'isolamento le bruciature sono bruciature da freddo è una procedura che è sempre più utilizzata l'indicazione si ha per il miglioramento dei sintomi e quindi controllo del ritmo nei pazienti che hanno già tentato questo da linea guida una una terapia farmacologica ok in cronico orale in realtà alcuni centri iniziano questa è una cosa molto dibattuta alcuni centri iniziano in pazienti selezionati a proporla anche prima della terapia medica perché non ha il 100% di efficacia assolutamente c'è un rischio anche qui di recidiva della fibrillazione laterale dopo ablazione transcatetere ma ovviamente se efficace non ha necessità di una terapia cronica per lungo periodo seconda alternativa il controllo della frequenza in questo caso abbiamo detto quali sono i pazienti che vanno a controllo della frequenza quelli in cui non si riesce a controllare il ritmo perché la fibrillazione laterale recidiva può essere una scelta nei pazienti che ci arrivano già con prima diagnosi DFA permanente oppure nei pazienti in cui andare a ripristinare il ritmo voglia dire andare a fare più farmaci anti-aritmici con potenziali eventi avversi e quindi il rischio di fare un controllo del ritmo sia più alto di quelli degli effettuali benefici in questo caso abbiamo detto come si lavora si lavora con farmaci che rallentano la conduzione del nodo trioventricolare lo snodo diciamo è un controllo della frequenza leggero tranquillo ok la frequenza target da cui arrivare con i nostri farmaci è sotto 110 ok non è un controllo molto stretto il controllo molto stretto è indicato solo in alcune categorie di pazienti faccio breve i pazienti con concomitante e scompenso cardiaco in tutti gli altri pazienti è stato dimostrato che essere molto aggressivi col controllo della frequenza dare tanto farmaco per il controllo per portare una frequenza molto bassa non è efficace rispetto a pazienti lasciati diciamo un po' più sereni tra 100 e 110 in questo caso che farmaci utilizziamo sono sostanzialmente due più un terzo di seconda linea la prima linea sono i petabloccanti e i calcio antagonisti non di idropiridinici ok sarebbero il verapamine e il diltiazem tanto per dirne due e dndcc vuol dire non di idropiridinic calcio channel blocker ok terza seconda linea che però spesso purtroppo viene utilizzata come prima linea è la digossina che piace molto ancora soprattutto nel paziente anziano soprattutto nel paziente con concomitante scompenso cardiaco l'uso della digossina in fibrillazione atriale è estremamente discusso le evidenze sono molto controverse ma il peso sembra più per un effetto potenzialmente non benefico soprattutto se la digossina è associata ad altri farmaci esempio classico la miodarone cosa preferire tra controllo del ritmo e controllo della frequenza in realtà dipende dal clinico dal paziente da quelli che sono i nostri obiettivi nel senso che mentre è come dire naturale pensare che il controllo del ritmo quindi il ripristino del ritmo sinusale sia meglio e quindi perseguibile a tutti i costi e che il controllo della frequenza sia in qualche modo una seconda scelta se non riesco a mantenere un ritmo sinusale in realtà i dati non sono proprio così ci sono una serie di dati che fanno vedere come da un punto di vista di mortalità totale quindi qui parlo di mortalità totale le due strategie siano assolutamente sovrapponibili questo può essere controintuitivo ma in realtà è ben spiegabile dal fatto che per mantenere il paziente in ritmo sinusale io devo lavorare con degli antiaritmici questi antiaritmici potenzialmente mi possono dare eventi avversi sto semplificando molto ma in questo caso probabilmente il rischio legato all'antiaritmico e il rischio che io diciamo recupero mantenendo il paziente in ritmo sinusale con l'antiaritmico si equivalgono alla fine della fiera questi pazienti hanno la stessa sopravvivenza vedete su un follow up di 5 anni questo è importante però da dire al paziente cioè non prendere il controllo della frequenza come una sconfitta perché dal suo punto di vista un controllo della frequenza efficace ha le stesse gli stessi vantaggi di un controllo del ritmo efficace quindi molti pazienti si fissano che non devono vedere l'FA l'elettrocardiogramma non devono vedere l'FA l'oltre anche se questo FA non gli dà nessun tipo di sintomi va abolita questo tipo di atteggiamento non porta a nessun vantaggio per quanto riguarda gli eventi cardiovascolari sul lungo periodo quindi il paziente va educato e gli va detto che finché si fa un controllo della frequenza efficace la sua qualità di vita la sua aspettativa di vita diciamo le sue prospettive sono comunque confermate e non perde niente ad avere un elettrocardiogramma diciamo con la fibrillazione materiale o con il ritmo sinusale seconda grossa pilastro della terapia la gestione del rischio tromboembolico questo perché perché dagli albori è noto che la fibrillazione atriale porta ad un aumentato rischio di tromboembolia l'abbiamo detto su che base su quella che è classicamente la triade di Virchow cioè la fibrillazione atriale tradizionalmente vede attivati tutti gli aspetti della triade di Virchow da quello più diciamo comprensibile che è quello della stasi se io ho un atrio fermo ho un atrio che non ha una sistole ho una stasi questa stasi è più evidente nei recessi nelle diciamo porzioni meno facili da raggiungere esempio classico l'abbiamo detto è l'auricola dell'atrio di sinistra ma è anche vero che la fibrillazione atriale attiva anche sia una disfunzione endoteliale per quello vi dicevo che può essere considerata una patologia infiammatoria sistemica e attiva anche uno stato di ipercoagulabilità quindi tutte e tre le pilastri dell'atrio di Virchow nella fibrillazione atriale sono in qualche modo attivati i pazienti con fibrillazione atriale hanno disfunzione endoteliale hanno se si fanno per esempio i classici forse anche meno classici marker di infiammazione spesso uno stato di infiammazione sistemica latente ok abbiamo detto e questa è la fisiopatologia classica della formazione del coagulo in paziente in FA il paziente ha una stasi dovuta alla mancanza della sistole a livello dell'auricola di sinistra che abbiamo detto è la zona dove più facilmente si sviluppa il trombo abbiamo anche dei fenomeni di disfunzione endoteliale abbiamo un danno endoteliale abbiamo una cascata pro-infiammatoria che porta alla formazione del trombo ripeto il 90% dei trombo si formano in atrio sinistro e si formano in auricola sinistra questo fa sì che poi il trombo se di dimensioni importanti oppure se si ripristina la sistole atriale e quindi rinizia una fase di contrazione il trombo si frantuma diventa embolo e l'embolizzazione è una come dire un'embolizzazione sistemica questo era il meccanismo fisiopatologico fino a poco tempo fa che però ovviamente per funzionare perfettamente come ragionamento prevede cosa che il paziente sia in fibrillazione atriale per sviluppare il coagulo perché se il paziente ha una storia di fibrillazione atriale ma in quel momento è in ritmo sinusale quindi c'è una sistole atriale non dovrebbe sviluppare il coagulo e di conseguenza non dovrebbe sviluppare embolia qual è il problema che è stato visto abbastanza recentemente che invece l'associazione temporale tra la fibrillazione in corso e l'embolia non c'è cioè noi abbiamo pazienti che fanno fibrillazione vengono riportati in ritmo o rimangono in ritmo anche per anni e poi fanno l'ictus abbiamo pazienti abbiamo detto che fanno l'ictus prima non hanno fibrillazione la sviluppano dopo abbiamo pazienti in mezzo a questi due estremi il discorso fondamentale è un paziente che ha una diagnosi di FA è a rischio di ictus anche se in quel momento non ha l'FA questo è fondamentale perché spesso neanche tutti i colleghi sono ben convinti di questa cosa il rischio di tromboembolia nel paziente che ha FA parossistica e quindi con un basso burden e del paziente con FA permanente e quindi con un altro burden è sovrapponibile non è necessario che ci sia l'aritmia per essere a rischio trombosi questo spiega perché i pazienti con fibrillazione atriale devono essere tutti sottoposti alla valutazione del rischio tromboembolico e fanno l'anticoagulante indipendentemente dal ritmo che hanno in quel momento ok questo perché perché in realtà la fibrillazione atriale predispone il paziente allo sviluppo di cardiombolia e quindi di ictus anche indipendentemente dalle cg di superficie ok il sistema diciamo il modello fisiopatologico adesso è un pochino più evoluto in realtà per gli addetti al settore è una rivoluzione si parla di cardiomiopatia atriale cioè si parla di un'alterazione strutturale degli atri data dai fattori di rischio che abbiamo detto ok che porta un rimodellamento strutturale elettrico e meccanico degli atri ed è questo rimodellamento strutturale che porta all'ictus allo stroke e che porta come epifenomeno cioè come quello che vedo alla fibrillazione quindi io posso avere un'associazione con lo stroke nella cardiomiopatia atriale anche se in quel momento non ho l'OFA ripeto è un concetto molto complesso ci si sta lavorando adesso il messaggio alla base è paziente viene valutato per rischio tromboembolico in base al fatto che abbia o meno una diagnosi di FA l'avere o non avere in quel momento un elettrocardiogramma con l'FA non gli cambia il rischio di ictus ok quello che dà il rischio di ictus è dato dal ciasvasc che è uno score che è un punteggio va da 0 a 9 che corrisponde vedete a un aumento dell'incidenza di ictus questi sono tutti i fattori di rischio del ciasvasc cioè tutti i fattori di rischio che aumentano la probabilità che il mio paziente abbia uno stroke dato dalla fibrillazione arteriale se vedete tra questi fattori di rischio non c'è il tipo di FA non c'è la classificazione dell'FA ok non c'è il ritmo al momento della valutazione cosa c'è c'è lo scompenso in questo caso per scompenso si può intendere anche una disfunzione ventricolare sinistra asintomatica o una cardiomiopatia per esempio qui la cardiomiopatia ipertrofica di per sé già da un punto l'ipertensione arteriosa l'età che vedete da 65 74 da un punto sopra 75 addirittura da due punti il diabete una patologia vascolare il sesso femminile che abbiamo già detto che è un po' svantaggiato in questo caso e e un pregresso stroke o un tia o una tromboembolia che ovviamente anche questa pesa di più riguardo al sesso femminile il sesso femminile qui vedete c'ha un punto ma in realtà il sesso femminile è un modificatore di rischio invece che un fattore di rischio cosa vuol dire vuol dire che da solo non dà punteggio quindi io non ho un chaz vasca uno in tutte le donne diciamo della terra il punteggio di uno viene assegnato solo se c'è un altro dei fattori che vedete sopra ok da sola il chaz vasca uno per sesso femminile non mi non mi non mi vale ok è equivalente a uno zero un chaz vasca uno per sesso femminile in una donna per esempio di 70 anni allora vale questa qui avrà due punti ok un maschio di 70 anni avrà un punto solo questo è importante perché poi in base al chaz vasca viene indicato l'anticoagulante c'è un altro scorro di rischio sempre la somma di vari componenti che vedete qua che si chiama sbled questo non serve per stimare il rischio trombotico tromboembolico ma serve per stimare il rischio emorragico perché ovviamente un paziente candidato a una terapia anticoagulante avrà un rischio emorragico se ci fate caso però molti dei fattori che compongono la sbled sono gli stessi o molto simili di quelli del chaz vasca ipertensione pregresso stroke età e quindi è molto facile che pazienti con il chaz vasca alto abbiano anche una sbled alto cosa vuol dire che il paziente ha rischio tromboembolico di solito è anche un paziente a rischio emorragico tra i due il chaz vasca è basilare per porre l'indicazione dell'anticoagulante la sbled serve al clinico per definire un rischio ma non non deve passare il messaggio che è una sbled alto controindica l'anticoagulante ok l'indicazione si fa sul chaz vasca un chaz vasca con un punteggio di due se è maschio vedete oppure di tre se è femmina quindi devi avere sesso femminile e a fattori di rischio aggiuntivi per quello dico che è un modificatore di rischio è raccomandato la terapia anticoagulante orale senza se e senza ma ok se è una sbled alto qua dice giustamente si cerca di seguire magari in maniera più attenta al paziente si prova a ridurre i fattori di rischio per emorragia modificabile ma una sbled alto non vuol dire non dare l'anticoagulante ok perché il grosso del rischio del peso sulla prognosi di questo paziente lo fa il tromboembolismo e se il paziente invece ha un ciasvasc di 1 se è maschio oppure di 2 se è femmina quindi un fattore di rischio più eventualmente il sesso femminile allora l'indicazione all'anticoagulante non è così pregnante qui parla di should be considered cioè andrebbe preso in considerazione se il paziente ha un ciasvasc di 0 o di 1 quindi delle femmine quindi solo sesso femminile senza altri fattori di rischio non si fa l'anticoagulante quindi ripeto il ciasvasc è importante per definire la strategia con l'anticoagulante che l'anticoagulante per fortuna ormai da una decina d'anni abbondante abbiamo i cosiddetti nuovi anticoagulanti che ormai nuovi non sono perché in realtà il primo studio sul The Bigatran che è stato il primo uscito è del 2009 li vedrete sotto l'acronimo di NOAC che sta sia per novel or anticoagulants che per non vitamina K anticoagulants oppure di DOAC che sta per direct ora l'anticoagulant stanno sostituendo hanno quasi sostituito il vecchio warfarin cioè il cumadine cioè gli antagonisti della vitamina K per intenderci il warfarin e l'acecumarolo perché perché sono dei farmaci innanzitutto mediamente più efficaci e soprattutto sono molto più gestibili del paziente parlo per indicazione su FA fibrillazioni atriali non valvolari ok il paziente con una protesi valvolare meccanico il paziente con una stenosi mitralica moderato severa quindi il paziente che qua vedete nel primo snodo decisionale dell'algoritmo in questi pazienti con fibrillazione atriale i NOAC non si sono dimostrati efficaci quindi non possono essere prescritti si va ancora di warfarin in tutti gli altri che ovviamente sono la stragrande maggioranza posso usare i NOAC vedete ci sono diversi dosaggi alcuni di questi sono in monosomministrazione come arriva roxaban e ledoxaban altri sono in bisomministrazione cioè si danno due volte al giorno come il dabigatran e l'abixaban il dabigatran è un inibitore diretto della trombina cioè del fattore 2 gli altri sono inibitori del fattore decimo attivato quindi agiscono una tappa sopra sulla cascata della coagulazione perché si fanno perché hanno preso il sopravvento grazie a Dio e perché le stesse linee guida li indicano come prima scelta rispetto al alcumadin quando si può fare prima di tutto perché sono più efficaci mediamente riducono l'incidenza di eventi trombombolici rispetto al warfarin danno meno sanguinamenti non tanto i sanguinamenti minori ma quanto riducono i sanguinamenti fatali cioè quelli associati a morte e i sanguinamenti intracranici quindi gli ictus emorragici sono molto più tollerabili perché hanno molte meno interazioni del comad con la dieta e con gli altri farmaci pazienti con fibra di azione arteriale non fa di solito solo i farmaci per la fibra di azione arteriale fa una farmacopea estremamente importante e poi sono comodi anche per il paziente cioè mentre il dosaggio dell'acefumarolo o del warfarin dipende dai valori dell'INR quindi il paziente costretto a frequenti controlli di laboratorio all'aggiustamento posologico in base al valore dnr questi farmaci hanno liberato il paziente da questo tipo di problema non c'è più bisogno di un aggiustamento posologico frequente ci sono delle riduzioni del dosaggio ma in realtà gli esami del sangue non devono essere fatti con frequenza settimanale o bisettimanale l'aggiustamento posologico di solito si fa durante la prima prescrizione o annualmente durante il rinnovo del piano terapeutico in base a una serie di caratteristiche ma l'idea fisiopatologica è in base al metabolismo cioè essendo quattro farmaci diversi il loro tipo di metabolismo cambia leggermente ci sono farmaci che hanno un metabolismo quasi diciamo completamente bilanciato tra livello renale e livello epatico ci sono farmaci che vengono metabolizzati quasi esclusivamente a livello renale ci sono farmaci che vengono metabolizzati quasi esclusivamente a livello epatico peraltro da citocromi differenti quindi il livello di complessità è molto alto i citocromi ci interessano anche per le interazioni farmacologiche però sappiate in realtà quello che mi serve sapere è che ci sono dei criteri di riduzione del dosaggio che sono quasi sempre a parte per il dabigat anche a discrezione del del clinico per gli inibitori del fattore 10 attivato prendono quasi sempre in considerazione o la clearance della creatinina vedete o il filtrato l'età il peso però è una manovra che ero fatta nel momento in cui si valuta il paziente si vede che il paziente ha un ciasvascalto ha bisogno di un anticoagulante il paziente esce con la ricetta al piano terapeutico e la giusta dose questo paziente finché non mi fa il controllo della creatinina non mi fa il rinnovo del piano terapeutico non ha bisogno come succede per il warfarin di andare in laboratorio a fare gli NR peraltro non avendo questo problema degli NR ed avendo una farmacocinetica prevedibile io sono sicuro che se il paziente assume la compressa è scoagulato in maniera corretta cosa che invece col warfarin non sapevo perché il paziente poteva pure avere un NR sotto 2 ed essere esposto a problematiche tromboemboliche o un NR sopra 3 essere esposto a problematiche emorragiche tutto questo problema si è completamente risolto con l'utilizzo di questi farmaci che rispetto adesso sono la prassi ma che hanno rappresentato un grossissimo passo passo in avanti rispetto a quello che era lo standard ripeto non vengono utilizzati in pazienti con FA valvolare ma per tutti gli altri possono essere utilizzati sono anche molto molto ben tollerati di solito con questo abbiamo finito e vi ringrazio per l'attenzione per l'attenzione per l'attenzione